Ciao belli dezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Preparatevi perché la storia di oggi è decisamente strana, ma prima di entrare nel mood delle storie da brividi devo annunciarvi che prossimamente uscirà un giveaway, penso proprio il prossimo venerdì, quindi attivate la campanella delle notifiche così non vi perderete il video. Sarà un giveaway possibile grazie appunto a Pampling, lo sponsor ufficiale del canale nel quale vi ricordo trovate tutte le magliette che vedete che indosso nei video, quindi se vi piacciono date un'occhiata, inserendo il codice Andrew avrete anche dei calzini a scelta in omaggio. Ma adesso iniziamo davvero con il file di oggi. Questa era Cristina Grimmie, una cantante e star di YouTube molto popolare in America, con una carriera davvero promettente davanti a sé. Il suo canale YouTube all'epoca aveva già più di 2 milioni di iscritti e il canale contava oltre 645 milioni di visualizzazioni. In seguito alle gravi azioni di un individuo profondamente disturbato, però, tutto questo sarebbe cambiato in un istante. Che cosa successe esattamente a Cristina Grimmie? E cosa si nasconde dietro a quella tragedia immensa? Oggi esamineremo insieme il tragico caso di Cristina Grimmie. Ci troviamo nel New Jersey, ed è proprio qui che il 12 marzo del 1994 nasceva Cristina Victoria Grimmie. Sua madre si chiama Tina e lavorava come receptionist, mentre suo padre, Jason, lavorava in una grossa società molto conosciuta negli Stati Uniti, chiamata Verizon Communications. È tipo la WIND o la TEAM negli Stati Uniti. Cristina aveva origini italiane e rumene ed era cresciuta a Malton, una cittadina del New Jersey. Cresciuto insieme a lei c'era anche Marcus, il fratello maggiore. I due avevano un legame fraterno molto forte. Svilupparono questo rapporto per via delle liti familiari, che erano iniziate quando Cristina aveva solo un anno. Durante l'infanzia di Cristina, poi, alla madre viene diagnosticato un cancro al seno. Era il 1995. Inizialmente il cancro regrediva rapidamente. Tutto sembrava risolto, ma pochi anni dopo, nel 1998, si ripresentò in forma molto più grave. Questa vicenda spinse i due fratelli ad essere ancora più legati, tanto da definirsi migliori amici. Fin da piccola, Cristina aveva un talento evidente nella musica. A soli dieci anni suonava fluentemente il piano. I suoi genitori la iscriveranno quindi alla Battle Baptist Christian School. Qui la sua passione per la musica e il canto continua a crescere. I suoi genitori fortunatamente erano favorevoli alle sue aspirazioni e la incoraggiavano a seguire la sua passione. In futuro affermeranno che sarebbe diventata una cantante riconosciuta a livello internazionale. Quindi adesso facciamo un salto in avanti. Siamo nel 2009, quando all'età di 15 anni Cristina carica da sola il suo primissimo video su YouTube. Faceva già da qualche tempo i video, ma li faceva vedere soltanto ai suoi amici e ai suoi parenti. A quel punto molti dei suoi amici le dicevano che era davvero brava e avrebbe dovuto provare a caricarli su YouTube. Secondo loro questo era un ottimo metodo per farsi conoscere anche da altre persone. Quindi il 17 luglio del 2009 carica il primo video, intitolato Io che canto Don't Wanna Be Thorn di Anna Montana. Cristina non aveva idea di quello che sarebbe successo caricando quel singolo video. Non pensava che avrebbe ottenuto molte visualizzazioni, né che qualcuno al di fuori delle sue conoscenze avrebbe guardato il video. E non sapeva nemmeno che questo piccolo passo avrebbe scatenato una serie di eventi che l'hanno poi portata sotto i riflettori. In poche ore dalla pubblicazione, il video stava raccogliendo decine di migliaia di visualizzazioni, che per l'epoca erano già tantissime, riceveva diversi nuovi commenti ogni ora ed erano praticamente tutti positivi. Si complimentavano e le scrivevano cose sempre positive. Questo fu fondamentale per Cristina, che leggendoli si sentiva incoraggiata e decise quindi di continuare a fare i suoi video. E nel terzo video, quindi, intitolato Io che canto Pari in the USA di Miley Cyrus, tutto cambiò. Il video andò virale e in pochissime ore dal caricamento, questa volta stava ottenendo milioni di visualizzazioni e migliaia di nuovi iscritti. Cristina era già molto apprezzata dai suoi coetanei a scuola, ma con l'esplosione di quel video venne considerata quasi come una persona famosa. Era diventata estremamente popolare in un lasso di tempo davvero breve. Questo però ovviamente non portò soltanto a cose positive. Gli utenti che commentavano ormai non erano più poche migliaia di persone. Ormai erano centinaia di migliaia di persone. E con queste erano cresciuti anche i commenti negativi. Come tutti i personaggi pubblici, stava cominciando ad attrarre haters. Ovviamente per i motivi più stupidi. La prendevano in giro per il suo naso, per la sua personalità o per il suo modo di cantare. Come sempre questi commenti non hanno un vero e proprio senso. Come sapete c'è chi li fa per noia, chi per poca empatia. Quindi si divertono a sfogare la propria rabbia dietro ad uno schermo. Ed è circa in questo periodo che Cristina lascia la scuola e inizia a studiare da casa. Questo la aiutava a concentrarsi sulla sua carriera da musicista. Aveva fatto la scelta giusta e durante quegli anni la sua fama crebbe a dismisura. Fece uno dei suoi video più visti insieme a due youtuber già famosi. Kurt Hugo Schneider e Sui Kurt. Non so se li ho pronunciati bene, non credo. Comunque sicuramente qualcuno di voi li conosce. E questo video ad oggi ha raggiunto oltre 200 milioni di visualizzazioni. Intorno al 2011 la carriera musicale di Cristina ormai era visibilmente avanzata. E a gennaio aveva raggiunto mezzo milione di iscritti. Sempre quell'anno Cristina ha ottenuto il secondo posto in una gara. Chiamata My YouTube Competition. Facendosi battere solo da Selena Gomez in persona. Rendiamoci conto. Grazie a questa competizione la madre di Selena Gomez, Mandy Tiff, le offre di aiutarla a diventare la sua agente. E Cristina ovviamente accetta subito. Era praticamente un sogno che si realizzava. E così alla fine di quell'estate Cristina si è ritrovata ad allenarsi con la voce e a uscire con Selena Gomez. Negli anni seguenti la fama di Cristina continua a crescere. E quindi si trasferisce a Los Angeles insieme a sua madre. In questo modo si sarebbe allenata ancora di più. Oltre a questo diventerà anche la presentatrice del nuovo web show Disney Power Up. E pubblicherà il suo primo album completo chiamato With Love. E ovviamente si esibirà anche in diversi tour. Raggiunse quindi anche i 2 milioni di iscritti. E firmò con un'importante casa discografica chiamata Island Record. La lista delle cose sulla carriera di Cristina in quegli anni è lunghissima e cresceva sempre di più. Il 10 giugno Cristina aveva accettato di esibirsi con un gruppo pop rock americano. Il concerto si teneva in un vecchio teatro nel cuore di Orlando in Florida. Alle 14.50 Cristina pubblica un video su Facebook per chiedere ai fan locali di partecipare all'evento. Non c'era nulla di diverso dal solito. Il concerto era ben organizzato. I biglietti non costavano cari. 15 euro a persona. Ed era perfetto per i suoi fan. Visto che per la maggior parte erano ragazzi giovani. Tutto stava andando nel verso giusto. Le porte del teatro si aprirono alle 18.00. E alle 19.00 cominciò l'esibizione di Cristina come da scaletta. Erano tutti felicissimi ed eccitati. La folla la amava. Insieme a lei c'era anche suo fratello che suonava la chitarra dietro di lei mentre lei cantava. La folla era visibilmente divertita come possiamo vedere. Almeno sembravano tutti divertiti. Ma uno di loro non lo era. Sul retro del pubblico possiamo vedere questa figura vestita di rosso quasi impassibile. Quest'uomo vestito con una camicia a quadri, pantaloni e berretto nero si chiamava Kevin Loible. Ed era una persona piuttosto strana. Era nato il 10 marzo del 1989. Sua madre Nora e suo padre Paul lo hanno cresciuto a St. Petersburg, in Florida. Non ci sono molte informazioni sulla sua infanzia. La maggior parte dei suoi compagni di classe dicono che lo trovavano strano ma tranquillo. Crescendo si era fatto pochi amici e preferiva passare il suo tempo online. All'interno della sua famiglia le cose non andavano molto bene. La madre era solita picchiarlo con una padella e lanciargli i piatti addosso quando era arrabbiata. In un'occasione avrebbe anche rotto un braccio al fratello di Kevin. Nel 2010 però purtroppo sua madre è morta di overdose di un medicinale. La morte è stata accidentale ma Kevin si sarebbe sentito in colpa per quello che era accaduto. Perché spesso le diceva di uccidersi quando litigavano. La morte di sua madre porta una forte tristezza nella vita di Kevin. Il padre invece una volta morta comincia ad uscire con un'altra donna anche se Kevin la disprezzava. Negli anni successivi le forze dell'ordine furono chiamate diverse volte per via di Kevin. Era diventato molto violento e una volta ha persino chiuso una porta sulle mani della donna con cui usciva il padre. Avvicinandosi all'età adulta Kevin comincia ad isolarsi sempre di più. Si chiude in se stesso e decide di non voler far più parte della società. Durante quel periodo abbandona il college e comincia a fare delle cose strane. Comincia a coprire le finestre di camera sua con un foglio di alluminio e dello scotch. E passa le sue giornate a giocare a un gioco online. Si era trovato un lavoretto part time al Best Buy. Ma anche i suoi superiori notavano che non aveva nessuna voglia di lavorare. Kevin si ritrovava a 25 anni da solo e senza alcun scopo nella vita. Questo almeno fino al 2015, quando Cristina appare casualmente nei suoi video consigliati su YouTube. Kevin si sente subito molto legato a Cristina e probabilmente pensava di provare amore verso di lei. Un amore che fino ad allora non aveva mai provato per nessuno. Ovviamente questa sensazione era senso unico e in realtà Cristina non sapeva nemmeno della sua esistenza. Kevin però diceva di amare tutto di lei. E nell'anno successivo intraprende un enorme cambiamento nel suo stile di vita, probabilmente per impressionare Cristina. Comincia a mettersi a dieta e perde in poco tempo 23 chili. Si sottopone ad un intervento agli occhi, si fa sbiancare i denti e si fa addirittura un trapianto di capelli. Incomincia pure a dire di essere diventato un devoto cristiano, affermando che Dio gli aveva mostrato la strada quando si sentiva perso. Quando però i colleghi cercavano di fargli capire che sarebbe stato comunque difficile che una come Cristina si sarebbe interessata a lui, lui si arrabbiava moltissimo e li minacciava di chiudere ogni rapporto con loro. Nel maggio del 2016 le cose prendono improvvisamente una svolta. Kevin compra due pistole e dozzine di munizioni. Soltanto due giorni dopo acquista anche due biglietti per vedere finalmente Cristina dal vivo. Un paio di giorni prima del concerto fa delle cose strane che avrebbero dovuto destare almeno qualche sospetto. Restituisce un mucchio di riviste scientifiche ad un suo amico che gliele aveva prestate. Gli disse anche che gli voleva bene e che era molto stanco e voleva quindi cambiare aria. Il giorno prima dell'evento prepara una borsa da portare proprio al concerto e ci mette dentro le sue due pistole e un coltello. Dopo aver fatto tutto questo nasconde il suo computer e si dirige verso il Mario Hotel dove passa la notte. Subito dopo le 22 del 10 giugno 2016, dopo il famoso concerto, Cristina si ferma per fare qualche autografo e scattare qualche foto con i suoi fan. Avevano allestito uno stand e lei si trovava là insieme a suo fratello. In fondo alla fila, davanti allo stand, si trovava proprio Kevin. Il fratello di Cristina la notò subito e pensò che era strano vedere un uomo adulto in mezzo ai ragazzini. I minuti passavano e la coda si era ridotta fino a quando Kevin si trovava finalmente davanti a Cristina. Appena arrivato davanti a lei non disse nulla, la fissava semplicemente negli occhi. Cristina, vista questa reazione, apre le braccia e cerca di abbracciarlo pensando che magari si trovava a disagio e quindi voleva rompere l'imbarazzo. Kevin a quel punto la allontana, estrae la pistola e senza dire nulla le spara. A quel punto scoppiò il panico, i ragazzini in fila corsero via e Mark cercò di bloccare Kevin. Sparò altri due colpi mentre Mark cercava di disarmarlo e quando finalmente ci riuscì, Kevin si allontanò ed estrasse la seconda pistola. Mark disse di aver visto la sua vita passargli davanti agli occhi perché era sicuro che sarebbe stato lui il prossimo a cui avrebbe sparato. Kevin invece inaspettatamente estrae la pistola e se la punta la tempia per poi qualche secondo dopo premere il grilletto. Vennero subito chiamati i soccorsi e nel giro di pochi minuti arrivarono. All'arrivo dei medici Cristina era ancora in vita ma era molto debole. La portarono di corsa al centro medico regionale di Orlando. Purtroppo però nonostante tutti gli sforzi fu tutto inutile e poco dopo Cristina morirà per via dei colpi subiti. Una cosa inquietante riguardo a questo caso è che appena nove giorni prima del concerto sembrerebbe che la struttura che ospitava lo spettacolo avrebbe licenziato la maggior parte della security perché non avevano più soldi a sufficienza per mantenere tutti. E infatti una cosa che mi chiedo è come ha fatto entrare sto qua con due armi nella borsa. Non c'erano i metal detector in quell'evento lì però cavolo solitamente ai concerti ti perquisiscono pure il buco del culo. Dopo questo evento comunque vennero installati dei metal detector e la sicurezza venne intensificata alla buon'ora. Il motivo per cui Kevin fece una cosa così estrema rimane ancora oggi poco chiaro. Alcuni però hanno teorizzato che fosse impazzito dopo aver scoperto che Cristina aveva iniziato a frequentare un collega, Stephen Reza. Ma non potremmo mai davvero esserne sicuri. Ho trovato questa storia estremamente disturbante. Se ci pensate io faccio video su YouTube come tanti altri miei colleghi e non è poi così improbabile che qualche pazzo li veda e si ossessioni in qualche modo. Questa cosa mi ha fatto davvero paura quindi ho voluto raccontarvi questa storia. Ovviamente speriamo che una cosa del genere non succeda mai, non andrò mai a nessun evento perché basta dopo questa storia non andrò mai da nessuna parte. Scordatevelo. E niente a parte gli scherzi che oddio non ci sarebbe neanche da scherzare. Io come al solito spero che vi sia piaciuto anche il video di oggi nonostante sia appunto come al solito una storia brutta. Vi ringrazio quindi di essere stati qui e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao! 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 Ciao!